Una veranda panoramica sul golfo di Siberi, il clima incontaminato del pollino, la cucina locale, gli ingredienti per una giornata di verazzo ci sono proprio tutti, dove? Ma al ristorante Terry di Levidonia, la tipica cucina albidonese preparata con i prodotti genuini del posto, i formaggi, i salumi, l'olio e il vino di produzione propria. E poi i bambini possono visitare la fattoria con gli animali o giocare al baby parking, tutte le sere carrellata di antipasti tipici caldi e freddi, barbecue a vista con le prestazioni di carni locali e 150 posti disponibili per le tue occasioni speciali. Ristorante tipico Terry di Levidonia, strada provinciale Trebisazze albidona, 0981 52 376 o 347 51 60 333, anche facebook oppure terredilevidonia.it Fatti sentire, fatti ascoltare, scegli la pubblicità su Radio Arbresh International, chiama ora lo 0983 80 704 oppure 349 071 54 40, Radio Arbresh International, fatti sentire, fatti ascoltare. History Music, History Music, su Radio Arbresh International, le canzoni che hanno fatto la storia della musica. the